ben tornati nella sala giochi di 80 voglia di arcade anche oggi Ezio a tenervi compagnia è vero vi avevo detto che sarebbe uscito il video ieri che era lunedì ho avuto dei problemi con obs speriamo che almeno oggi riesca ad uscire a pubblicare questo altro video prima di cominciare come sempre vi dico di iscrivervi al mio canale youtube al nostro canale youtube se ancora non lo avete fatto mi raccomando è gratuito trovate tante guide tra tante dritte su come poter giocare ai vecchi giochi del passato senza spendere una lira quindi se amate il retro gaming iscrivetevi e di sicuro non ve ne pentirete fidatevi ci sono poi i nostri social instagram twitter tiktok e twitch twitch dove ci trovate in diretta lunedì mercoledì e venerdì il lunedì facciamo un talk show insieme ai ragazzi di 8 bit gaetano e gamers 56k il mercoledì e venerdì si gioca con il mio cabinato giochiamo insieme il venerdì facciamo anche un torneo serata tornei con con fightcade quindi giochiamo tutti insieme vi aspetto mi raccomando se volete acquistare uno tra cabinato bar top e plancia una delle nostre creazioni fatte a mano allora c'è il nostro sito internet www.strananet.it oppure www.80 voglia di arcade.it 80 scritto al numero bene quello che vi dovevo dire ve l'ho detto oggi andiamo a vedere come mettere veramente il turbo al nostro batocera quello che vi sto per far vedere io l'ho scoperto per caso durante la live di venerdì scorso perché perché dovevamo giocare insieme c'era la serata fightcade la serata tornei ho lanciato fightcade e non è partito non è partito mi ha chiesto di fare l'aggiornamento ho provato a fare l'aggiornamento e non ci sono riuscito per farlo invece di fare quello che ho fatto che faccio sempre lo vedete sul video che ho fatto qualche mese fa come installare fightcade su batocera invece di digitare il comando curl meno l fightcade punto batocera punto pro ho fatto curl meno l app punto batocera punto pro e mi si è aperto un mondo visto che è successo a me adesso ve lo faccio vedere anche a voi perché c'è un sacco di roba che vi serve quindi da qua f1 sulla tastiera andate a sinistra su applicazioni andate su x term e digitate quello che vi ho appena detto curl meno l app punto batocera punto pro pipe bash pipe sarebbe il la lineetta verticale che sta prima del tasto 1 si fa con lo shift quindi col maiuscolo una volta scritto questo premete invio e appare questa dicitura ok sto installando batocera pro prende scarica quello che deve scaricare tata finito io vi do un consiglio quando ha finito sulla tastiera premete alt tab ritornate alla finestra d'os e fate exit fidatevi molto meglio dopodiché quando avete fatto questo andate nella sezione questa qui ombriu and ports cliccate e come vedete adesso c'è batocera pro lo lanciate e con vostra enorme sorpresa apparirà una lista di applicazioni da installare ad esempio 7 zip per dezippare file amazon luna potete giocare col vostro cabinato direttamente su amazon luna poi che abbiamo arc container ecco questo è importantissimo se non installate arc container non potrete più giocare a fightcade ma molto probabilmente non vi funzionerà neanche tutto il resto tutta questa sfilza di app che sono qui la maggior parte richiede arc container quindi installatelo come si fa ad installare uno di questi programmi barra spaziatrice ci andate sopra barra spaziatrice e lo selezionate vedete il puntino io adesso li tolgo perché li ho già installati ma vi faccio vedere quanta roba c'è c'è google chrome c'è docker c'è discord c'è microsoft edge fightcade ma selezionate da qui non vi funziona c'è filezilla firefox geforce now guarda la roba che c'è qua dentro questi potete installarli tutti e c'è minecraft obs opera ps2 plus ps3 plus guardate quante cose quante cose spotify steam sunshine cosa c'è qua avete letto bene immagino di sì io però non vi spiego nulla se volete fate così si installa e poi cercate su google non me lo chiedete poi telegram vivaldi vlc whatsapp wine manager youtube tv insomma c'è lira di dio ci sono tantissimi programmi che potete installare io per voi ne ho stellati un pochini e ve li vado a far vedere mi raccomando prima di tutto arc container dopo quello potete stare a quello che volete ad esempio amazon luna io in questo momento lui vi dirà che il browser non è supportato che è vecchio e potrebbe non funzionare eccetera 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 voi gli dite di sì che non c'è problema stai tranquillo ti capisco e poi parte lo stesso quindi dopo aver ignorato quel messaggio voi semplicemente continuate vedete che il joystick io sto usando questo sto usando un pad della ps5 anche perché per i giochi che voglio utilizzare io c'è bisogno di un pad perché altrimenti non giocate ok mi dice guarda che non è proprio pienamente supportato voi gli dite va bene benissimo tutto lui come vedete carica se avete già usato i servizi di amazon luna sapete già quanto impiega quali sono i tempi di caricamento la connessione deve essere buona la cosa bella è che non importa quale computer abbiate all'interno del vostro cabinato o quale computer stiate utilizzando per far girare batocera perché tutta l'elaborazione viene fatta online quindi ci giocate belli e sereni in questo caso quello che conta tantissimo è la velocità della connessione io per esempio gioco addirittura ogni tanto mi metto a costruire un po di roba su lego fortnite direttamente dal cellulare la cosa bella di amazon luna è che funziona ovunque ci sia un browser e quindi anche sulla file stick anche su un i3 di quarta generazione come quello che c'è nel mio cabinato che uso qui per le registrazioni eccolo qua io sto giocando a lego fortnite sul mio cabinato aspettate che ho vinto le stelle guarda vi faccio vedere anche come gira seleziona il mondo uso il mio matchmaking adesso vi faccio vedere che lo carica potrei giocarci anche con i joystick del mio cabinato perché amazon luna li ha riconosciuti subito il problema è che per giocare a fortnite mi mancano l2 r2 mi mancano gli analogici e quindi con il joystick del cabinato che ho un joystick 8 direzioni con sei tasti ci faccio ben poco quindi ho collegato col filo un joystick ps5 e ci gioco senza nessunissimo problema come vi faccio vedere a breve evitando depremere cose sulla tastiera i tempi di caricamento sono quelli che sono emo eccolo qua guarda come vedete dopo che ha caricato tutto non scatta niente perché perché tutto il comparto grafico tutta l'elaborazione viene fatta online perché sono su amazon luna la cosa bella è che ci sto giocando dal mio cabinato combato c'era quindi usciamo da qua dopo amazon luna ho installato microsoft edge google chrome perché ho installato due browser ma adesso ve lo spiego allora mettiamo caso che voi avete come me un cabinato combato c'era e tutte le volte che dovete passare una rom diventate matti allora sai che c'è io vado aspetta che mi sono dimenticato il mouse io vado qua direttamente sul browser del mio cabinato cerco wonder boy ma mi rom per fare un esempio dalla lista che esce mi prendo un sito scarico il file e dove lo trovo adesso vi faccio vedere uscite dal browser ritornate su batocera ripremete f1 che si apre il file manager questa volta andate dentro system download ed eccolo qua vboy.zip voi questo lo prendete fate magari semplicemente control c andate nelle roms andate nel mame control v e avete scaricato direttamente la rom dal browser all'interno di batocera non l'avete scaricata fuori non l'avete dovuta mettere su chiavetta non l'avete dovuta passare via rete avete fatto tutto direttamente nel browser qui su batocera e non è da poco è non è da poco come vi dicevo se voleste giocare a fightcade dovete installare per forza arc container arc container dove lo trovate lui si crea una voce a parte e la trovate qui si chiama arc quando c'entrate la cosa brutta è che non sapete dove state quindi io adesso che sono entrato so che sto sulla prima voce io devo arrivare su fightcade quindi una due tre quattro conto tutte le volte che sto spingendo in giù è 5 6 7 8 sono su fightcade clicco per aprire e ho sbagliato ho fatto male il conto vedete sto su chi ha chi 9 fightcade ok seleziono fightcade lancio e come vedete ciò fightcade non ho dovuto inserire né il nome utente né password perché si è preso tutto vedete io posso uscire posso andare qui posso andare fightcade lo conoscete tutti in sostanza lo conoscete tutti quindi ve lo ripeto se volete giocare con fightcade dovete per forza di cosa installare arc container altrimenti non vi funziona ok possiamo fare f alta f4 e chiudere la finestra qui si qui dentro arc container ci sono tantissime altre voci e ci sono dei file manager c'è file zilla pure qui c'è firefox github geforce now gimp google chrome g parted tanta 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 roba anche qui per uscire qui siete dentro uno degli emulatori quindi potete uscire e l'ultima diciamo l'ultima l'ultimo sguardo lo darei a quella cosa che vi ho detto che non funzionava che è questa allora io ho provato ho selezionato la voce lui si è installato tutto ha fatto tutto da solo ovviamente degli emulatori yuzu non ha installato scusatemi degli emulatori switch non ha installato yuzu perché non c'è più però ha installato ryujinx dopo che lui ha finito vedete c'è già ho provato con una rom dopo che lui ha finito sempre in ombrio emports trovate questa voce qui switch updater se lo premete come faccio io adesso lui andrà alla ricerca di degli aggiornamenti degli emulatori come vi ho detto yuzu non esiste più quindi non lo trova e non lo aggiornerà però ryujinx lo trova lo aggiorna e lo installa infatti dopo questo passaggio qui trovate dentro la cartella roms la cartella switch se ci andate a mettere una rom funziona no perché perché vi manca il bios se andate nella cartella bios troverete all'interno della cartella bios la cartella switch dovete avere una switch non mi dite no poi pure fa senza io ste cose lo sapete son contro se avete la vostra switch vi tirate fuori le vostre chiavi vi tirate fuori il firmware lo mettete nella cartella switch che trovate dentro bios dopodiché le rom che mettete nella cartella switch vi partiranno senza nessunissimo problema è un po complesso da fare vi ho detto io arrivo fino a un certo punto dopodiché se volete c'è google chiedete a google non mi chiedete ezio ma come fa non vi rispondo tanto lo sapete quello che io ho provato era per vedere se con un click funzionava l'emulatore e se volete vi dimostro che non funziona perché perché non c'ho il firmware da switch scelgo tochi e non funziona ovviamente potete dire eh vabbè ma c'è da scegliere altre cose opzioni avanzate gioco quei due questi due non ci stanno quindi è inutile metterli posso mettere questo e come vedete non parte e non è un problema della rom è un problema che l'emulatore di nintendo switch va sistemato in una maniera particolare per farlo al 99% è meglio che voi abbiate la vostra switch questo vi dovevo dire e questo vi ho detto perfetto tornerei in altri lidi a noi più conosciuti ci mettiamo magari qui sul mame per i saluti quindi se questo video vi è piaciuto e lo avete trovato utile iscrivetevi al nostro canale youtube mettete mi piace mandate il video ai vostri amici ma soprattutto cliccate sulla campanella così sarete sempre avvisati direttamente da youtube delle nostre nuove uscite ci sono poi i nostri social instagram twitter tiktok e twitch dove ci trovate in diretta lunedì mercoledì e venerdì mi raccomando vi aspettiamo eh mercoledì e venerdì si gioca con il mio cabinato il lunedì un piccolo talk show con i ragazzi di 8 bit gamers 56k e con gaetano mi raccomando se poi aveste voglia di comprare uno dei nostri cabinati o bartop o planche che facciamo noi a mano allora vi aspettiamo su www.strananet.it vi aspettiamo lì ci siamo noi ci sono i nostri cabinati ci sono le descrizioni ci sono soprattutto i prezzi che vi servono per sapere quanto costa ok? vi aspettiamo a noi non rimane altro che salutarvi grazie per aver visto anche questo video con noi ci vediamo domani sera mercoledì per giocare insieme con il mio cabinato mi raccomando e poi ci vediamo qui giovedì per un altro video su youtube tutorial o gioco? vediamo ancora non abbiamo deciso ciao a tutti ragazzi